Eccoci qui nell'area YouTube del convento di Lonato di Brescia, siamo in compagnia di un gruppo di topoline, che sorridono lei, che fa finta di niente, com'è che ti chiami? Subito, voglio sapere il tuo nome, subito, vicino al microfono, Graziella, sei fidanzata? Sì, come si chiama il tuo uomo? Mirko, ma è vero che Graziella ti senti porcellina, ma Mirko non ha ancora scoperto? No. Non lo sa che sei porcellina? No. E perché non glielo dici? Mi hai detto otto volte a me in un minuto che sei qui? Domani. Ah, domani quando vai da lui glielo dici, ok, ma non siete qua a festeggiare il tuo fidanzamento, giusto? No. Siete qua a festeggiare la cosa? Dimmi un po'. Bravo, prendi in mano il microfono, anche con due mani se voglio, c'è un problema. Parole tue. Eh, ma che classe, proprio, fa il giro con le dita, ok? Non rida, segna. L'addio il nubilato della nostra amica Angelica. Ok, chi è Angelica? Chi non la riconosco? Senti, ok, chi ha fatto? Angelica vicino al microfono. Un pochino più di ritmo quell'applauso. Ok, bravo. Facciamo una prova per l'applauso, che mi piace allora. Un applauso, due applausi, un applauso per la sposa! Ok, perfetto. Un applauso, non due applausi, però va bene, avete capito che funziona. Quando registro, dopo, lo facciamo, ok? Ok. Ah, ma questo non è? Certo che l'ho recitato, una musia. Eh, oh, vado a tirare un po' per lì. Sì, il suo sederino, il mio bello, la mia sederino. Allora, con chi ti sposi? Luca. Ok, puoi tirare sul microfono se vuoi, eh. Questa fa? Tutto, tira su tutto, anche l'asta. Prendi su, prendi le mani. Tiralo su, anche. Anche la base, anche la base, appoggiala. No, anche la base. Bene, ok. Eh sì, via sempre e tira fuori le istruzioni per capire come funziona. Di solito ho svito. Dimmi che ti sposi con? Luca. Con Luca, ok, conferma. È vero, non si sa mai, c'è qualcuno che mi dice due tre nomi, quindi non si sa mai chiedere tre. Ok, quando è che ti sposi? Sabato 25. Ok, dimmi, un pregio e un difetto di Luca. Oddio. Oddio, eh. Un pregio, l'è bello. Golosa. Ti immagino quante notti insolite che gli hai fatto fare a Luca a te, eh. Sì. Ok? E il difetto? È troppo puntuale. È troppo puntuale. Ai. Sono brutte conne, eh. Te la posso assicurare che la puntualità... Vengo sempre mezz'ora di ritardo, ho una chiamata prima di arrivare che sei sicuri. Ma no. Lei con gli occhiali bianchi è molto milf. Prima il petto, poi la guancia. Sei fidanzata te? Scusate. Ah! Come si chiama tuo marito? Marco. Ma Marco è come per toccare una foto? Presumo di no, se no non toccheresti questo. No, no. Dai Marco, vai un po' in palestra, su. Per la tua bella. Li devi fare appannare gli occhiali, ok? La prossima volta che vieni a casa. Allora, sei qua con le testimoni? No. Eh, sei qua con le mie amiche allora? No, scherzo. Con le mie amiche. Eh, ok, ok. Mi sono stessa, no. Quali sono le amiche sulle mani? Tutta. Tutta amica. Ma lei è doppia amica, su due mani lei, brava. Ok. Che canzone volete cantare, ragazze? Ray Wind. Ray Wind. Sei pronta, donna della ciabatta? Ok, vai. Le mie amiche di San Pietro. Morubio. Morubio, sì. Mi scusi per la pronuncia, non sono di Perù. Morubio. Io sono un pupè. Morubio. Morubio. Na-na-na-na. Na-na-na-na. Fammi vedere. Cosa? Cosa volete? Diggi, diggi. Lai-na-la-la-la-la-la. Credo che non sia davvero Pensando solo a te ogni respiro Ogni momento che vivo A meno che tu sia l'unica L'unica per me e altre te vedo E altre te le vedo Ma se ti sento dentro come un pugno Quando ti vedo ballare Vorrei morire Questo è per lei Fammi godere La e la 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 Fammi vedere Adesso vi voglio saltare Vorrei stringerti e braccia E braccia intorno al collo E baciarti Sì Bacciarti dappertutto Vorrei possederti Sulla poltrona di casa Miratoni Rewain Rewain E tutto è necessario Perché tu vai vai Me non sei come il vento La conoscete bene la canzone eh? Quante espressioni di cosimento Su tuo volto Allora cantatela adesso vai E la 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 bocce Fammi vedere Che cosa? Che cosa? La e la 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 Fammi godere Subito! La e la 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 Fammi vedere Ancora La e la 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 Non è meglio nel sonno La e la 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 Fammi godere Eeeeeeeh Ti aiuto con le illusioni E vivo di emozioni Che tu Tu Non lo sai nemmeno di darmi Perché tu vai vai Veloce come il vento Quante espressioni di cosimento Su tuo volto Eeeeeeeh Si salva Ti ai la 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 Ma mi odere енного Allora Pare Mai la 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 Ma mi morire Comari, comari. Comari, comari. Comari, comari. La donna più... Non si può dire, ditelo voi, più... No, quello no. Più, più, dattemi un termine. Più go. Non lo sentite in coro. Golosa! Bravi! Ciao ragazze!